Ciao, sono Paolo Rossi, il regista di Sopravvissuti all'Homo Sapiens e sono qua con il mio collega, co-regista. Sono Nicola, appassionato di fotografia, aiutante di Paolo. La Lessigna per noi è famosa per due famosi lupi, uno sloveno e una italiana che si sono conosciuti qua da dieci anni e stanno resistendo in queste bellissime montagne. Questo è, almeno per me, la mia prima conoscenza con la Lessigna. Il titolo del film nasce dall'idea di dare il focus di fatto al cuore di questo film che è incentrato sugli animali selvatici che hanno resistito nel cuore dell'Appennino delle quattro province negli anni di massima espansione delle popolazioni umane. Il gatto selvatico è fondamentale nel nostro film perché in qualche modo anche i nostri film sono una scusa per mostrare le prime immagini in quei territori di gatti selvatici europei. Abbiamo centrato il periodo storico che va nel Novecento principalmente fino al dopoguerra, Seconda Guerra Mondiale, dove appunto poi c'è stato un abbandono di questi territori e appunto questi animali sono ritornati in qualche modo a avere una popolazione più florida rispetto a prima. Il film si divide in due, una parte di intervista e l'altra proprio del nostro lavoro di me e Nicola nel bosco. Quindi il nostro lavoro di piazzamento di videotrappole per ottenere video parte proprio solo esclusivamente da me e Nicola e dalle nostre precedenti esperienze sul campo e in particolare nei boschi più selvaggi, nelle zone più remote di quella parte dell'Appennino. Mentre invece l'altra parte di film, anche se le due cose si mischiano, esclusivamente sono interviste su temi che, quel tema lì che a noi è molto caro, ma che appunto vede protagonisti e persone che in nessun modo ci hanno aiutato nella ricerca nel bosco, ma che hanno dato molto dal punto di vista del contestualizzare la situazione di quelle valli in quella determinata parte di storia, di periodo storico. Forse quello che sarebbe il nostro auspicio è che la gente portasse a casa, ritrovasse un po' il mistero dell'andare in un bosco e del sapere appunto che all'interno del bosco ci sono animali affascinanti come il gatto selvatico, di cui la presenza è poco riscontrabile, però ecco, questo mistero.